Sono le macchine sotto acqua ragazzi, questa è via Sant'Alessio, guardate questo signore, sono qui che lo sto guardando in diretta, poveretto, acqua e grandine ragazzi, non ho mai visto una cosa del genere, no poverini ma c'è, nooo, nooo, allora cosa dobbiamo fare, un poverine, un poverine, un poverine. Pagliare il pezzo, un poverine, un poverine, un poverine, un poverine, e anche se ci sono stati crei, non ce se ci sono stati creati, ma che sta face a un poverine, un poverine, è molto più distante. Grazie a tutti. 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 Qualcuno mi scrive com'è nel resto della città. Sono venuti giù tutti gli alberi. Questo è il campo Luigi Piccoli per capirsi. È venuto giù tutto qua. Giù tutto. Io abito lassù. La macchina della suocera distrutta. Voleva cambiarla ma forse non oggi. Erika hai visto bene la macchina. Erika. Eh sì. Un disastro ragazzi. Non so fuori regione come va.